Abbiamo discusso dei nostri problemi, di tutte le questioni in sospeso che vogliamo rappresentare al Presidente incaricato Bersani. In primo luogo la sanità, il trasporto pubblico locale, il patto di stabilità, la cassa integrazione in deroga e poi anche i debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. Le nostre imprese stanno soffrendo, stanno chiudendo perché hanno crediti nei confronti della pubblica amministrazione e rischiano il fallimento per questo. Tutti questi punti sono stati discussi, condivisi e oggi saranno fatti presenti al candidato Presidente Bersani perché vogliamo sentire da lui che risposte ha.